Perchè abbiamo messo questo Zanda in versione dei Tafazzi? Prima di diventare tesoriere, Zanda aveva proposto una proposta di legge per aumentare gli stipendi dei parlamentari, lei l'ha sconfessato, ma non crede che c'è qualcosa di profondo? Cioè che forse non può fare il tesoriere di un partito come il PD, un signore che chiede di alzare gli stipendi dei parlamentari? No, perché è una balla detta dei 5 Stelle, perché quella proposta fatta prima, equiparando lo stipendio italiano a quello degli europarlamentari, che non hanno altre indennità, in realtà nel merito lo diminuirebbe anche lo stipendio dei parlamentari, quindi è proprio una tempesta in un bicchier d'acqua. E no, perché è una balla detta dei 5 Stelle.